Ciao a tutti, oggi parliamo di NFP. Gli NFP sono i non-farm payrolls. E cosa sono? Sono un indicatore macroeconomico relativo all'occupazione negli Stati Uniti. Però l'occupazione in che senso? Sostanzialmente indicano l'incremento o il decremento dei posti di lavoro nel mercato americano senza considerare il settore dell'agricoltura. Gli NFP, quindi non-farm payrolls, hanno cadenza mensile, quindi vengono rilasciati ogni primo venerdì del mese e non vengono rilasciati da soli, vengono rilasciati insieme anche ad altri dati relativi all'occupazione americana, tipo il tasso di disoccupazione, tasso di occupazione, e sono anch'essi importanti, e anche insieme ad altri dati sempre relativi all'occupazione. Tuttavia, per quanto riguarda gli operatori di mercato, gli NFP sono i più osservati e sono i più osservati in quanto danno sostanzialmente una big picture di come sta andando il mercato del lavoro e di conseguenza su questo si riflette la spesa dei consumatori. Il motivo è molto facile nel senso che è ovvio che se il mercato del lavoro senza considerare il settore agricolo in questo caso va bene, è ovvio che i consumatori sostanzialmente avranno più soldi perché più persone avranno il lavoro e quindi più persone potranno spendere con ovviamente un beneficio per tutta l'economia. Quindi è ovvio che aumenta la spesa dei consumatori, di conseguenza aumenta il giro nell'economia, aumentando il giro nell'economia aumentano i soldi nelle tasche delle aziende, nell'economia intera, quindi cosa succede? Succede ovviamente che ci sarà un beneficio sui mercati e sul mercato del dollaro. Questo cosa vuol dire? Che ci sarà un beneficio dal punto di vista azionario ma ci sarà un beneficio anche dal punto di vista appunto della valuta dollaro. Sono così importanti perché ovviamente sono un grande market mover. Market mover che cos'è? Market mover è un qualcosa che sostanzialmente muove i mercati. Rimuove i mercati in che senso? Nel senso che sarà una notizia che probabilmente avrà un certo impatto e aumenterà per esempio la volatilità all'interno di un certo strumento o all'interno dell'economia e quindi di tutti i mercati. Quindi se ha un incremento del mercato del dollaro, quindi la valuta dollaro nel caso di un aumento delle NFP avrà un beneficio e come accennato anche il mercato azionario sostanzialmente avrà dei benefici e questo sarà dovuto ai maggiori profitti che avranno le aziende grazie a come detto prima al migliore diciamo all'aumento della spesa dei consumatori sostanzialmente nell'economia reale perché è ovvio che se i consumatori hanno più soldi perché più persone hanno lavoro e quindi più persone possono spendere è ovvio che le aziende comunque venderanno di più e avranno un incremento per quanto riguarda i profitti. Ora però voglio sottolineare un fatto importantissimo. Questo fatto è che solitamente il movimento che il mercato ha in termini sostanzialmente di volatilità anche quando si parla in termini di non-farm payrolls in ottica sostanzialmente da trader sostanzialmente il mercato si muove molto anche in base alle aspettative che ci sono in merito ai non-farm payrolls e solitamente se gli NFP fanno meglio delle aspettative ci sarà un effetto sostanzialmente positivo per l'economia mentre invece viceversa se saranno inferiori alle aspettative gli NFP e punto. Allora in questo caso ci saranno degli effetti tra virgolette negativi per l'economia. E con questo dove voglio arrivare? Voglio arrivare al fatto che noi quando tradiamo non dobbiamo basarci su queste cose perché? Perché sostanzialmente si basa tutto su delle ipotesi quindi ah se viene meglio del diciamo pensiero che abbiamo su come faranno andrà bene e viceversa quindi sostanzialmente sono cose tra virgolette diciamo ipotetiche che quindi noi non dobbiamo considerare perché noi comunque tendenzialmente le notizie non le dobbiamo neanche guardare nell'ottica di tradare dobbiamo guardarle solo in ottica di cultura generale. Poi ovviamente io parlo in termini sostanzialmente di price action perché non conosco gli altri metodi quindi ci sono metodi che si basano sulle notizie però non li conosco non li posso giudicare quindi parlo in ottica di price action con la price action noi non dobbiamo tradare in base a quello che esce circa nfp o qualunque altro dato macroeconomico. Quindi vedete come conoscere un certo dato sia anche diciamo un aiuto circa il comprendere quanto sia un azzardo a volte investire in merito a una notizia su quel determinato dato o meno perché ora sostanzialmente che sappiamo che gran parte del movimento che c'è nell'intraday di fatto perché questi movimenti si hanno nell'intraday prevalentemente a seguito degli nfp ora che sappiamo questo sappiamo anche che quindi non conviene poi troppo fare questo azzardo appunto e basarsi su questo tipo di dato sempre in ottica appunto di price action quindi non guardiamo queste cose guardiamo i grafici e lasciamo che siano i grafici sostanzialmente a sintetizzare le notizie e le informazioni in un unico calderone e poi noi valuteremo appunto questo quindi i grafici. Con questo direi che è tutto io vi ringrazio per l'attenzione spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto che possa esservi utile se vi è piaciuto vi chiederei di mettere like e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto io in ogni caso vi ringrazio nuovamente vi auguro un buon proseguimento ciao a tutti